Ura e Amnios L'origine e il nuovo dialogano nelle opere di Marco Calizzucconi, esposte fino al 2 aprile nella sala Fustenberg di Palazzo Valentini. Lavori frutto di un'esperienza lunga che ha portato l'artista a viaggiare nello spazio e nel tempo, accumulando un'esperienza che ha trovato espressione nelle immagini e nel volume che accompagna la mostra. Origine e dualità, Ura e Amnios. Questo lavoro nasce da un'esperienza personale, soggettiva, artistica, che poi con gli anni si è sviluppata attraverso una ricerca, anche attraverso altri aspetti culturali e contenutistici. La provincia di Roma cerca sempre di lanciare idee nuove, in modi anche nuovi, e ritiene in modo particolare gli artisti molto interessanti, di poter dare uno spazio, l'idea di fare anche questa sede, quindi come cose più interessanti, più belle. L'opera, edita da Armando Editore, è frutto della collaborazione di più esperti che si sono interrogati sulla relazione duale in una prospettiva storica al fine di rivedere criticamente il presente. Lei in particolar modo si è occupata dello studio della civiltà nubiana. In che modo questa civiltà affronta il problema della dualità? Devo dire che il problema della dualità è un problema chiave della cultura nubiana antica, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti monarchici. Nel senso che la figura, soprattutto femminile, la figura della sovrana, convive su un piano di piena parità con il regnante di sesso maschile. Questo è un motivo straordinariamente innovativo che, pensi, non mancò di stupire gli stessi romani. Quando i primi romani in età imperiale giunsero in queste regioni dell'Africa, certamente, e i romani erano adusi a misurarsi con realtà sorprendenti, certamente rimasero fortemente colpiti da questa modernità di impostazione mentale. D'altra parte è una impostazione che deriva certamente da un tipo di cultura matriarcale, perché in Africa è imperante la cultura matriarcale. Però, ecco, io credo che uno dei principali aspetti sia proprio questo legato alla dualità della coppia regnante e quindi ad un piano di piena parità tra i regnanti. Questo è un dato certamente innovativo e moderno. La differenza tra le donne etrusche e la donna romana è che la donna etrusca partecipa ai banchetti. La donna romana e la donna greca no. E dà, e la cosa è importante per la famiglia, perché dà il nome ai figli. Cioè, come nelle iscrizioni, c'è il nome del padre e il nome della madre. Un po' come in Spagna, rispetto a noi. Invece, nel mondo romano, addirittura la donna fila il nome dell'uomo, insomma, come un po' più da noi, Francia, eccetera. Nello specifico, il volume da voi scritto, che poi è accompagnato da questa mostra artistica, in che modo tende a sviluppare questo rapporto tra antico e nuovo? Tende a svilupparlo nell'ambito di determinate problematiche, come per esempio può essere l'epopea di Gilgamesh. L'eroe sumerico e poi babilonese è stato ripreso tantissimo negli ultimi 40 anni, sia da cantanti, sia da pittori, sia da disegnatori fumettisti e quant'altro. E quindi è un tentativo di vedere come, appunto, una problematica, in questo caso la morte, e il tentativo di superamento della morte, ha interessato il compositore, l'artista contemporaneo. Questi contenuti sono il compendio del percorso artistico creativo di Cali Zucconi, in cui vengono sviluppati concetti universali di origine e in continuo divenire dualità, che è dell'essere e muove nell'essere, attraverso il reciproco rispecchiamento autorigenerativo. Come in un circolo, dunque, dall'antico Ur, si passa al nuovo Amnios, lo spazio fetale, appunto, in cui ciò che è passato assume nuovo valore, per riflettere sui valori della società odierna, con le sue problematiche, presenti e future. Nell'opera, intesa come unico corpo, si parla dunque di politica, di sociale e di ambiente, un dialogo che va dal passato al presente al futuro, dalla scienza all'arte, antica e contemporanea, dall'uomo alla donna, dall'artificiale alla natura. Non a caso, nelle tele è rappresentato il confronto tra due degli elementi naturali per eccellenza, acqua e fuoco. Innanzitutto le fiamme sono ossidiche, tipo quelle che si utilizzano per sciogliere l'asfalto, e l'acqua non è usata come per sciacquare il pennello, l'acquaraggio, per dirgliere il colore, quindi non è al servizio, è se stesso soggetto, cioè l'acqua e la fiamma interagiscono contemporaneamente su una superficie speciale, senza un disegno preliminare o una traccia pittorica. Quindi il risultato estetico, praticamente, si basa proprio sull'incontro di questi due elementi. Senza l'interazione paritaria di questi elementi non ci può essere la forma. Quindi la parte scu' sono le parti bruciate, le parti chiare sono le parti inumidite. Ed è questo binomio che nel corso degli anni mi ha fornito veramente l'occasione per riflettere su un aspetto fondamentale per noi esseri umani, cioè la relazione. Sviluppando, attraverso lo sviluppo di questa tecnica, ho notato come l'aspetto paritario e relazionale tra questi due elementi creativi è fondamentale nella qualità e nella tipologia del risultato poi formale estetico. Ed è proprio questo che ha poi fatto scattare l'idea del progetto. Tra me e l'atto creativo non c'è uno che è più importante che l'altro. Non è l'artista che governa l'atto creativo e non è l'atto creativo che conduce l'artista. Cioè l'artista non è passivo, ma sono tutti e due consapevoli a pari merito di dialogo. Cioè l'artista non è passivo, ma sono tutti e due consapevoli a pari merito. Cioè l'artista non è passivo, ma sono tutti e due consapevoli a pari merito. Cioè l'artista non è passivo, ma sono tutti e due consapevoli a pari merito. Grazie. 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 Grazie.